Caetano Galil, qui al club mai sola, tanto entusiasmo per questa promozione? Sì, sì, ci voglio un po' di entusiasmo, la città merita, la gente merita un po' di festa, che è stato un anno combattuto, non era facile vincere questo campionato, è giusto che sia questo entusiasmo, la città deve approfittare questo momento positivo della squadra, della società e festeggiare. Ma te lo aspettavi tutto questo entusiasmo? Eh, lo sapevo, dicono tutti che vincere a Salerno è diverso da tutti gli altri posti e adesso fa capire perché vincere a Salerno è diverso. A tuo parere questa è stata la tua migliore stagione, anche se tu hai fatto altri gol in Serie B? Sì, no, è stata una stagione importante, non lo so se la migliori, per me credo, pensando bene, credo che sia la migliore perché è coroata anche con la vittoria del campionato, ora sommando tutto l'anata, è stata un'anata tanto positiva. Ultime due battute, naturalmente la domanda che devo farti è, rimarrai a Salerno, prolungherai questo contratto? Se prolungherò non lo so perché non dipende da me, però credo che rimanerò a tutti per questo posto, per rimanere. Ultima battuta, quanto c'è di merito di Menichini nell'esplosione di Khalil? C'è grande merito, ma anche di compagno perché la mia esplosione non è che ho fatto da solo, se non c'è uno che mi fa un passaggio, se non è il ministro che mi dà la fiducia, se non è il direttore che mi compre, se non è il presidente, c'è tutta una serie di persone a dare una mano per una cosa, andare in una direzione giusta. e devo ringraziare ovviamente a tutti. Grazie.